6, 5, 4, 3, 2, 1, fuoco, destra vai, sinistra sfiora, 20, destra 5, sinistra 5, poi destra sfiora, 40, sinistra 4 lunga, 30, destra 4 lunga chiude al vuoto e destra 0, 30, ritarda sinistra 3 piena, in destra 4 sfiora, 40, destra 3 sfiora, in sinistra 2, per destra 3 sfiora in ritarda, sinistra 2, tieni, destra 2, per sinistra 2 secca, e destra 3 tieni e vai, 80, rail, stacca forte, tornate sinistro, dai che abbiamo già passato quello dell'anno scorso, abbiamo già fatto meglio, vai vai vai, 20, 20, ritarda destra 3 piena, e 40, destra 3 sfiora, in sinistra 3 sfiora e vai, vai vai vai, 150 mossi, per sinistra 5 tieni, vai vai vai, sinistra 5 tieni, per destra 4 sfiora, in destra 3 veloce, vai è 20, stacca forte, destra 0, poi sinistra 2 sfiora e vai, 70, destra 2 sfiora, in tornante sinistro, nevica, vai 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 vai, destra vai, e sinistra 5, 40, in ritardo a destra 4 veloce, 20, al fine rail, tornante destro, vai 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 vai, sinistra 3 sfiora e vai, 100 tossati, la chiesa, sinistra 5, e destra 5, sinistra 2, che raccorda sinistra 2, taglia se vuoi, 40, sinistra 5 lunga piena, devo stare attento alle staccate, infatti ho visto, 80 mossi, destra 5 lunga, in sinistra 3, secca, vai, destra 3 sfiora e vai, 100 dosso pieno, in posta, destra 5 lunga, chiude in destra 4, destra 4 secca veloce, vai, destra 5 lunga, chiude, destra 4 veloce, vai, e 40, sinistra 3 lunga lunga, tornante destro, vai vai vai, destra 4 lunga, per sinistra 2 secca veloce, 50 a destra, si stacca forte in versione, a sinistra, 80 mossi, in posta a sinistra 5, piena spancia, poi 40, in ritardo, a destra 3 secca scende, secca scende, in sinistra 5 che scende ancora, vai, e destra 5 la scicana a sinistra, a destra scusami, e gira, sinistra 2 gira sul ponte, 40 al vuoto in posta, destra 3 lunga lunga che chiude i paletti, vai vai vai, 20, sinistra 4 lunga lunga, stai al centro, che chiude poco alla casa, chiude poco alla casa, e 20, sinistra 4 spiora la sepe, per destra 2 secca, poi 20, destra 4 spiora in sinistra 3 taglia, e destra vai, e alla staccionata, sinistra 5 lunga lunga, chiude 4, alla casa chiude, e destra 3 veloce, ritarda, sinistra 1 secca scende, sinistra 3 per destra 3 tieni, e subito tornante a sinistro, 30, ritarda tornante destro, vai, sinistra 5 piena sul dosso, e alla siepe, sinistra 5 sfiora in posta, tornante a sinistro, 2 tempi, 20, ritarda, tornante a sinistro, tornante destro, pende, 10, tornante a sinistro, secco pende, destra 5 per sinistra 5 sfiora, e subito tornante destro, poi destra 5 piena, e 100 dosati, destra sfiora, in subito tornante a sinistro, 30, tornante a sinistro, vai, 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 poi sinistra vai, 20, destra 5 sfiora, e subito tornante a sinistro, 60 visti, in destra 4 veloce, per sinistra 4 tieni, subito tornante a sinistro, 30, destra 5 tieni, e subito tornante a sinistro, gira e chiude, 20 alle palanghe, orco Dio, alle palanghe, sinistra 5, ceca piena, fidati, per destra 5 piena, e chicane a sinistra, chicane a sinistra, vai, 30 mossi, e taglia tutto in posta, tornante a destra, 40 sacrifica a sinistra 4 veloce, per destra 4 e 60, stacca forte, tornante a sinistro, 10, destra 5 piena, 100 a vista, sinistra sfiora, e subito tornante a destra, poi giù tutta, tutta, vai, 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 tutta, 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 vai, vai, vai ancora, non mollare fino alla fine, è finito, bello, bello,